allora ciao a tutti in quest'altro video vi volevo spiegare chissà voi immaginerete sempre roba diciamo che pericolosa riguardanti guerra roba del genere esplosivi vabbò più meno ci chiamano ferie il nepalm volevo insegnarvi a fare il nepalm il nepalm è una sostanza terribile praticamente è un combustibile che ha ucciso milioni di vietnamiti nella guerra quando ci sono stati americani vietnamiti in vietnam degli aerei veniva lanciato veniva lanciato gli americani lanciavano il nepalm che è stata sostanza terribile che praticamente è quasi non un budino il budino più solido sembra quasi non so è molliccia sembra gel per i capelli quasi sembra sembra gel per i capelli più o meno un po più denso forse allora gli americani lanciavano degli aerei e sinceramente l'accensione non lo sapevo non so come funziona ma credo comunque con dei tonatori dentro con dei piccoli di tonatori a timer dentro comunque io ho detto nato il timer magari in altri video vi insegnerò vi spiegherò adesso vi spiego come come fare proprio la sostanza allora il materiale è pochissimo allora benzina benzina classica benzina qualsiasi tipo va bene credo che tipo va bene poi diluente nitro io il nepalm non l'ho mai fatto ho soltanto saputo dai miei amici però il diluente nitro non c'è deve essere il il diluente delle pitture è tipo un un l'acquaraggia una volta c'era l'acquaraggia il diluente nitro credo per la pittura o comunque per togliere la pittura e poi nel semplice polistirolo quello bianco quello che si distrugge a palline quasi sì allora si piglia un contenitore di ferro perché si scioglie tutto e si riempie cioè si mette un po di benzina quello lì per farlo in dimensioni ridotte per farlo in poca si riempie di benzina cioè non si riempie si mette un po di benzina poi un po di diluente nitro ma non deve essere mai pieno la scatola il contenitore e poi quasi magicamente il polistirolo se si viene impinto nel in cui in questa sostanza composta da benzina e diluente nitro frigge si scioglie subito cioè subito con po di difficoltà ma si scioglie si bisogna cioè lasciarlo 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 per un po e mettercene 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 finché non non ne assorbe più praticamente finché non si non frigge più il polistirolo non ne succede più niente niente questa sostanza rimane una cosa ecco melmosa molto melmosa infatti gli americani e c'è questa sostanza era cattiva nella guerra tra americani e italiani perché rimaneva attaccata alla pelle e ti bruciava finché non mi arrivi e continuava anche dopo la cosa cattiva che galleggia non per tanto ma galleggia anche nell'acqua non tantissimo però è tremenda guerra quindi cioè non fatelo e se lo fate fatelo veramente in dimensioni ridotte e fatelo proprio provate così a cazzo cioè così proprio su un pennarello magari un pennarello vitti così volete provare ci bruciate il pennarello e con l'acinino gli date fuoco ma non fate cazzate anche lì perché il napalm o napalm è una cosa terribile veramente ok ecco 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 ecco